L'agostino è nato 16-2 per 45, è bezzo che so, a 30 anni non mi ha gradato una prusa, e poi cambiava un bel peccato, adesso è lì, bel peccato e dico dove c'è la pittetta. Andiamo al sindaco, la panela con questo luco è abbandonata, e poi andiamo a pulire, senza spiegare. Adesso ti diamo un sacco sul furo, ti paghiamo, fu un minitante, e dai miei, torno a raccoglie, a murgare, mi ha avuto un travalletto, e già i campi e tutto, a bello a bello. Mi danni qualche mancia, la gente viene da qua, lo culo, manzana e cero, e sono i contenti. Ora non ci sono io, fanno quello che gli piace però. E se io andiamo da bene, e se io andiamo da bene. Se io andiamo da bene, banco a urla, e poi andiamo da bene. Quando non ci sono io fanno quello che le piace alle persone, ma quando ci sono io già rispetto. Che qui tutto era tutto sporco, pieno di buste, tutto pieno di ruvi, questi pini, si fermavano le persone lì, buttavano l'ammondezza e scappavano. E io le ho messo un po' a posto, se lo lasciano così si può bagnare ognuno, ma se rimango una settimana senza venire qui non si può più rimanere. Quando è limpida così si bagna ognuno, chi la vuole. In più le ho messo 20 secchi di sciapia di mano, quando la voglio pagare, se lo dico al sindaco e alla giunta, pagate il miliardi a chi ha fatto la mano. Ok? Vedi il piano pezzo e tutta la sabbia pulita, limpedisce l'acqua e la sabbia fine, l'acqua che ristallina.